I Mane Skin vincono ancora agli MTV European Music Awards, la band trionfa nella categoria Best Rock e Best Italian Act, Leonardo Metalli. Nel 2022 i Mane Skin erano usciti dagli MTV European Music Awards a mani vuote, quest'anno per la rock band tutta italiana il recupero con il doppio trionfo. Il prestigioso Best Rock e il Best Italian Act, record su record. Nessuna esibizione e vittoria in remoto, la cerimonia era prevista a Parigi ma è stata cancellata per la crisi internazionale. Questo è anche l'ennesimo successo per Damiano, Victoria, Thomas ed Etan che avevano già vinto il premio come Best Rock agli MTV Video Music Awards 2023. Intanto il tour mondiale va alla grande, insieme con la new edition del loro ultimo album Rush. Cinque brani inediti, tra cui il singolo Honey. Un applauso a questi ragazzi che hanno surclassato mitiche band come Metallica, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Arctic Monkey e Foo Fighters. Honey, are you coming?